Ciao amici! Tutti desideriamo vivere a lungo e sani, vero? Oggi è possibile con la dieta anti-infiammatoria che allunga la vita. Se magari lo dice la scienza. Una ricerca congiunta tra diverse università di Varsavia, Seattle e Uppsala in Svezia ha proprio riscontrato che la dieta anti-infiammatoria allunga la vita e fa vivere meglio. La ricerca ha coinvolto quasi 70.000 uomini e donne svedesi di età compresa tra i 45 e gli 83 anni. Chi ha seguito la dieta anti-infiammatoria ha ridotto del 18% il rischio di mortalità. Non solo, la probabilità di morire a causa di una malattia cardiovascolare si è abbassata del 20% e con la dieta anti-infiammatoria il rischio di mortalità associato al cancro è sceso del 13%. Chi ha seguito la dieta eppure fumava ha avuto benefici lo stesso, grazie all'alimentazione. Ma cosa si mangia? Ve lo dico subito, ma prima mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Allora, si prediligono tutti i cibi che non generano infiammazione interna, come frutta fresca e verdura cruda ricche di proprietà antiossidanti, pane e cereali, solo se integrali, proteine vegetali, legumi o formaggio magro. Come condimento, l'ideale è sempre l'olio di oliva extravergine, ma anche l'olio di colza. A colazione, per esempio, vanno bene cereali integrali e frutta secca. A pranzo, verdure e proteine magre. A cena, cereali integrali con legumi e verdure. Come spuntino, frutta fresca lontana dai pasti per non interferire con la digestione e cioccolato fondente. E da bere solo acqua fresca? No, guarda, vanno bene anche il tè e il caffè, ma non zuccherati e con moderazione. E poi le tisane, i succhi di frutta da spremuta o estratto, un po' di vino rosso e birra. L'importante è evitare i cibi che alimentano l'infiammazione, quindi carne rossa, patatine fritte, junk food, dolci industriali e bibite zuccherate. Come vedete, chi segue i miei consigli trendy e sani segue già un'alimentazione anti-infiammatoria ed è più protetto grazie al cibo sano ed equilibrato. Per conoscere tutti i miei consigli, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati ogni volta che esce un nuovo video. E se non siete avvisati, andate comunque sul canale perché ogni giorno pubblico nuovi video che possono essere utili. Mangia sano e vivi più a lungo! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!